Buongiorno, un saluto a tutti. Quest'oggi vi parlo di fotografia contemporanea e di relazione tra fotografia contemporanea e cinema. È un argomento che fino a qualche anno fa era abbastanza emarginato, non veniva preso in grande considerazione dal mondo della fotografia e neanche dal mondo del cinema, che si limitava a operare anche dal punto di vista critico, dal punto di vista estetico e creativo, soprattutto nell'ambito della questione del rapporto tra direzione della fotografia e realizzazione di un film. Quindi tutto era concentrato dentro il lavoro del direttore della fotografia, che comunque è un ruolo assolutamente significativo, ovviamente. Ma noi sappiamo che le questioni che riguardano le connessioni tra fotografia e cinema sono di carattere estetico, di carattere filosofico, di carattere linguistico e dovrebbero essere approfondite in una maniera adeguata. Ora, io da tanti anni che mi occupo di questa materia, fino a qualche anno fa sempre un po' isolato, faccio un'automarchetta clamorosa per dimostrare il mio impegno in questo argomento. Ho scritto due libri in tal senso, ve lo mostro. Il primo, Cosa devo guardare? Riflessioni critiche e fotografiche sui paesaggi di Michelangelo Antonioni, scritto con Orit Iudovic per Postcard Edizioni. Qualche anno dopo ho scritto un altro libro, questa volta da solo, La vertigine dello sguardo, la fotografia nel cinema tra narrazione e filosofia dell'immagine, sempre con Postcard. Allora, il mio impegno in questo argomento mi ha sempre portato ad approfondire quali sono i legami tra queste due discipline. Non c'è ombra di dubbio che tra queste discipline c'è una connessione bidirezionale, cioè dire la fotografia influenza il cinema e il cinema influenza la fotografia. Non c'è ombra di dubbio, a mio avviso, che alcuni grandi autori degli anni Sessanta, e parlo di cinema, hanno fortemente influenzato l'immaginario fotografico e hanno creato dei solchi all'interno dei quali poi si sono collocati grandi autori della fotografia contemporanea. Io faccio due nomi, e sono due nomi sui quali ho lavorato molto, quelli di Alain René e Michelangelo Antonioni. In particolar modo faccio riferimento a due film, l'anno scorso a Marie Mbatt, Alain René, l'eclisse, Michelangelo Antonioni. Ecco, se voi analizzate in questo messaggio, lo indirizzo soprattutto al mondo della fotografia, se voi analizzate l'immagine, la composizione, la struttura visuale di questi film, vi accorgerete senza ombra di dubbio che gran parte della fotografia contemporanea è stata influenzata da questi film, che sia un'influenza diretta, che sia una connessione razionale oppure inconscia, involontaria, indiretta, non ha importanza. La fotografia contemporanea si è nutrita di questi due film e dell'opera di questi due autori. E ancora di più la fotografia contemporanea sta adottando sistemi produttivi molto simili a quelli del cinema, dal punto di vista della creazione produttiva con set veri e propri, la creazione di storie che poi vengono narrate attraverso un metodo di carattere puramente cinematografico. E non c'è ombra di dubbio che grandi nomi della fotografia, ad esempio Jeff Wall, ad esempio Gregory Crudson, Crudson viene più accostato a David Lynch e poi su Lynch e il suo rapporto della fotografia faremo un altro video per CultFaint TV. Ma certamente Jeff Wall, forse il più grande fotografo dei nostri tempi, senza ombra di dubbio è stato influenzato per esempio dall'eclisse di Michelangelo Antonioni, dall'idea di collocazione della figura umana dentro gli spazi, dentro gli ambienti per esempio. Ma l'Enrené ha anche le inquadrature, la fissità delle inquadrature dell'anno scorso a Marianne Bade, il modo di esplorare gli spazi interni, il modo di stilizzato, di inquadrare gli ambienti esterni, si ritrovano in continuazione nella fotografia contemporanea, nel mondo delle immagini di oggi. Per quanto riguarda Antonioni poi bisognerebbe fare un discorso ancora più corposo, perché non c'è ombra di dubbio, a mio avviso, che Antonioni agli inizi degli anni 70 e poi con Zabrisky Point si sia collocato in un ambito creativo che si sviluppava soprattutto negli Stati Uniti, prendiamo dei nomi che poi sono diventati famosissimi, William Eggleston, Stephen Shore, Joel Sternford, tutti autori che hanno creato degli indirizzi in fotografia, ma che a mio avviso hanno ben presente la lezione di Michelangelo Antonioni e la lezione di Zabrisky Point. Ora, è chiaro che dovremmo approfondire molto di più queste tematiche perché hanno una loro complessità, ma basta comparare questi due film, li ripeto, Leo René, l'anno scorso a Marianne Budd, Michelangelo Antonioni, l'Eclisse e anche Zabrisky Point, con molti dei lavori di grandi fotografi che sono diventati notissimi negli ultimi 30-20 anni, per capire come questo immaginario cinematografico di Antonioni e René abbia attecchito nella produzione creativa ed estetica fotografica. Non mi stancherò mai di dirlo e non mi stancherò mai di dire che probabilmente anche Alain René, pur avendo per quanto riguarda l'anno scorso a Marianne Budd un legame più forte con questioni di tipo letterario, sappiamo che era legato alla questione del nouveau roman, anche René è stato influenzato dall'immagine che lo ha preceduto e da alcuni fotografi che lo hanno preceduto, lo stesso vale per Michelangelo Antonioni, ma questa è la grandezza degli artisti più significativi, quelli di essere cioè dei territori che si lasciano attraversare da altri territori espressivi e che generano poi in altri autori dei territori da esplorare. Ecco, senza René e senza Antonioni, a mio avviso, gran parte della fotografia contemporanea non esisterebbe. Io vi saluto e faremo altri video su CultFriendTV su questo argomento. Un caro saluto a tutti di nuovo.